Un minimo depressionario sul mare di Sardegna è il rapido spostamento verso sud e in graduale attenuazione. Nelle prossime ore l'area depressionaria sarà in nuovo approfondimento sullo Ionio. In Toscana domenica 17 maggio poco nuvoloso con residui addensamenti in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino ma con tendenza ad ulteriore generale miglioramento. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nubi comuni uniformi. In serata sereno poco nuvoloso, venti moderati da nord-est sulle zone interne, di maestrale sulle zone costiere e sull'arcipelago nel pomeriggio. Mari da poco mossi e ammossi specialmente a largo, temperatura in aumento anche sensibile. Sul territorio provinciale da nuvoloso a poco nuvoloso o sereno, a Lucca sulla piana temperatura minima 14 massima 26 gradi, in Versilia sul litorale minima 15 massima 23, in Garfagnana e zone montane minima 14 massima 28 gradi. Lunedì cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento.